Si sono svolti oggi a Milano i funerali di Paola Marella, nota professionista di architettura e interior design nonché volto televisivo amatissimo dal pubblico. La sua morte, avvenuta a 61 anni dopo una lunga malattia, ha lasciato sgomenti i fan che avevano imparato ad amarla e apprezzarla per il garbo straordinario, ma soprattutto i familiari e gli amici presenti presso la chiesa di San Marco a Brera, quartiere dove Marella abitava, per donarle l'ultimo grande abbraccio. Come riporta Milano Today, alla funzione hanno preso parte non solo personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Alessandro Borghese con la moglie, ma anche la gente comune, che apprezzava la professionista milanese. In prima linea il figlio Nicola e il marito Domenico, sei la nostra luce, ha detto quest'ultimo. Paola è stata la luce degli amici, della sua Milano, di molta gente che non la conosceva. Faceva un lavoro normale. Quando ha cominciato era una professione un po' così, che lei ha nobilitato con la sua professionalità, l'agente immobiliare, NDR. Poi è entrata in televisione, era il suo posto. Era solare, un'amica per tutti, un supporto, sempre presente. La sua luce resta, non dimenticatela. Durante l'omelia Don Luigi Garbarini ha parlato di Paola Marella come una donna dalla indiscrezione innata che anche negli ultimi giorni al San Raffaele, mentre la città sfilava, era ferma nel suo letto, nella sua eleganza, e mostrava il suo modo di essere. Gossip Time vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto!